Allora, questo uovo di Pasqua che si sta scegliendo è per tutti voi iscritti. Buona Pasqua a tutti! Ciao a tutti amici, io sono Kamobai e questo è il mio canale. Bentornati a tutti, oggi sono qui con un video speciale, quindi non c'entra niente con gli argomenti che avevo detto nella mia presentazione, perché nel video speciale 100 iscritti, in più è anche Pasqua oggi, quindi è speciale per due motivi. Innanzitutto volevo davvero tanto ringraziarvi perché in meno di 24 ore siete già in 100 e io sono davvero tanto contenta. In questo video volevo farvi vedere le uova che ho ricevuto. Questa della Ferrero e questo dei baci per me. Allora andrò ad aprirli, ad assaggiarli e vediamo cosa c'è dentro. Ecco qui l'ospite da voi tanto richiesto. Allora andiamo ad aprire il primo uovo, quello della Ferrero. Sì, che è la Ferrero? Sì. Sì, si fa già? Sì. Allora andiamo ad assaggiare la salsalata. Buono. E senza sorpresa. Cosa sono? All'interno sono questi tre cioccolatini. Questi sono Raffaello, Ferrero Rocher e il Ferrero Fondente. Sì. Passiamo a questo altro uovo, quello della Bace Perugina. Fondente Luisa. Con dentro tre Bace Perugina e poi una sorpresa. Andiamo ad assaggiare l'uovo Bace Perugina. Quanto è fondente, mi piace un sacco. Buono. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Tre Bace Perugina che avevano promesso. E poi un porto a chiavi. La mia mamma mi ha comprato dei pacchettini. Che ora vi farò vedere. Allora, il primo è questo. Il Charms a cuore. Con scritto Daughter. E poi mi ha fatto un altro pacchetto. Il bicchierino tipo Starbucks. Direi che questo video è durato anche abbastanza. Io vi mando un grande bacio. Vi auguro buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Anche se quando guarderete questo video la Pasqua sarà già bella che è passata. Ma io sto registrando questo video a Pasqua. Allora spero che abbiate passato bene la Pasqua. Io vi saluto. Se volete seguirmi su TikTok, su Instagram, vi lascio sempre qui sotto il mio nome. Vi mando un abbraccio, vi voglio bene. E ci vediamo al prossimo video, quello normale. Sabato. Vi aspetto. Grazie. Grazie.